L'Arezzo sul campo della Lupa Roma si gioca a Fiumicino contro la formazione che è capolista nel girone G della Serie D. L'Arezzo per centrare l'obiettivo già trovato nella passata stagione gioca e su sì dall'inizio. Ci sono Rubecchini e Dieme, Dieme uomo di Coppa a supporto, c'è anche Frasca in difesa, gioca a Pecorri. I primi minuti sembrano premiare l'Arezzo, poi però la Lupa Roma prende il sopravvento nei primi minuti. C'è questa azione sulla destra con il tiro di Sibiglia, non trattiene David e arriva Tavaiole e porta in vantaggio la Lupa Roma al quinto minuto di gioco. David si infortuna anche, dovrà uscire per lo scontro con l'attaccante, conclusione qui di Taglia con lo che è spinta corta di David. E Lupa Roma è in vantaggio dunque al quinto minuto di gioco con Taglia, con l'1-0 che dunque porta in vantaggio la formazione di casa. Lupa Roma che ricomincia, sembra più gagliarda la squadra di casa, c'è adesso il pallone di Sibiglia. Icelli, parte il cross, attenzione a Tavaiole, l'agra di rigore, Tavaiole cerca spazio per il tigolo, prova. C'è la parata di Scarpelli, subentrato dunque a David. Calcio di punizione da destra, lo batte Capodaglio per la Lupa Roma. Capodaglio sul punto di battuta, ecco il pallone con la palla messa in calcio d'angolo da Scarpelli. Conclusione violenta questa di Capodaglio, dunque ancora un pericolo per l'area Amaranto. Arezzo che oggi però gioca in maglia arancione. Parte Chiesa per la Lupa Roma, uno dei giocatori più attivi. Ancora Chiesa che fa un po' di campo in orizzontale, pallone all'indietro poi per Raffaello. Di nuovo Chiesa che apre per Faccini, Faccini sulla destra. Faccini finta, poi ancora il pallone crossato verso Luciani. Scheggia la traversa, la palla ancora lì. Faccini sul fondo, incredibile occasione qui per la Lupa Roma per trovare il gol del raddoppio. Se l'è vista brutta ancora la difesa Amaranto. Lupa Roma che riparte in contropiere. Ecco lo scatto regolare, Tavaiole, posizione regolare. Attenzione Tavaiole, Tavaiole in aria. Tavaiole si avvicina a Scarpelli, due su di lui. Tavaiole ancora lui scivola, poi tocca col braccio. E dunque per l'arbitro, punizione in favore dell'Arezzo. Ancora la Lupa Roma che prova a chiudere in avanti anche nel finale di tempo. L'Arezzo recupera palla, c'è questo controllo di Bellaviglia. Però è impreciso, gli porta via palla a Sibiglia. Attenzione Sibiglia, limite nell'aria. Sibiglia, parte il tiro! Dai, riesce Scarpelli a respingere la conclusione. Si va negli spogliatoi, 1-0 per la Lupa Roma. Entra Martinez nell'Arezzo, poi entrerà anche Quadrini per completare i cambi. Ma Lupa Roma sempre pericolosa. Qui c'è un lancio per Tavaiole. Sembra partire in posizione regolare, poi invece si alza la bandierina. E dunque tutto vano. L'Arezzo che prova a farsi vedere. Fin qui non ha mai tirato in porta praticamente la squadra amaganto. Qui c'è la pressione. L'Arezzo che prova a recuperare palla, ce la fa con Martinez. Il padrone spostato verso Gobekini. Arriva Quadrini, attenzione, la conclusione. Esussi davanti alla porta! E c'è Di Loretti che fa una grandissima parata su Esussi davanti alla porta. Ne deriva un calcio d'angolo già battuto con il pallone che arriva sul fondo. Attenzione a questo bel pallone. Esussi è finito a terra. Intervento di Celli e calcio di rigore. Calcio di rigore per L'Arezzo. Rivediamo che cosa è successo. Guardate, sulla parte sinistra la trattenuta netta di Celli su Esussi. Si ha visto bene l'arbitro. Calcio di rigore per L'Arezzo dunque che ha la possibilità di trovare il gol del Pagheggio. Sul dischetto si presenta Quadrini. Quadrini contro il portiere Di Loretti. È l'occasione dell'1-1. Attenzione. Subito dopo l'occasione dunque che ha avuto L'Arezzo con la deviazione avvicinata di Esussi. Fischia il direttore di gara dunque è tutto pronto. Quadrini che in corsa molto corta parte Quadrini la parata di Di Loretti che dice di no. Grande intervento del portiere della Lupa Roma che intuisce la direzione del tiro. E dunque nega a Quadrini il gol dell'1-1. L'Arezzo però insiste. Un buon momento. Quadrini ha dato una scossa positiva alla squadra Amaganto. Vediamo che parte però un contropiede della Lupa Roma. Attenzione perché c'è lo scatto di Tavaio che si ferma. C'è quindi Faccini. Ecco lo servito. Faccini che può andare verso l'area di rigore. Va a puntare Bellavigna. Ancora Faccini. Rientra sinistro. Scarpelli ancora. E poi Faccini che non può intervenire come avrebbe voluto. Occasione per la Lupa Roma. Punizione per Quadrini. Lo batte lui da destra. Ecco Quadrini. Pallone dentro. Attenzione a Pecorari. Di Loretti. Ancora lui ma era fuori gioco. Era fuori gioco. Dunque tutto vanno. Ma era stato un altro grande intervento del portiere della Lupa Roma. Sempre dunque sull'1-0. Qui Bellavigna. Buon break. Se ne va. Bellavigna. Dentro per Martinez che si allunga il pallone. Grande movimento in aria. Martinez l'uscita di Di Loretti. L'abitro rigore. A cinque minuti dalla fine. L'aghezzo ha un secondo. Gligore ammonito anche Di Loretti. Rivediamo qui l'azione di Martinez che praticamente buca centralmente la difesa. Piazzata abbastanza male in questo caso della Lupa Roma. L'uscita del portiere Di Loretti. Vediamo se prende la gamba e forse prende la palla. Prende la palla. L'arbitro invece ha ritenuto che avesse preso la gamba di Martinez. Sembra che era fuori pallone. Comunque calcio di rigore per la formazione a Maranto. Il secondo della partita. Stavolta la battuta sarà di Esussi. Sarà Esussi. Dunque a tentare la trasformazione. Dal dischetto si presenta Esussi. Dunque tutto pronto per il calcio di rigore che può valere l'uno a uno. Isperato a cinque dalla fine. Pronto dunque Esussi. Questa volta fischia l'arbitro destro. Intuisce Di Loretti ma la palla è dentro. Il pareggio dell'Arezzo. Dunque uno a uno la nuova situazione. Si va ai calci di rigore e anche qui dal dischetto è Esussi a far gol dopo che avevano fatto gol i primi suoi quattro compagni. È Esussi che approfitta dell'errore di Morini al quinto penalty per portare l'Arezzo in semifinale.